Amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV e del sito www.gianlucarossi.it, sono già qua in centralina di montaggio per rivedermi le azioni principali di un derby assolutamente orrendo, parliamoci chiaro, il Milan lo ha vinto con umiltà e quindi lo ha vinto con merito, così non va, lo dico subito ad Antonio Conte, lo dico subito alla squadra, è un derby che abbiamo affrontato con disattenzioni a tutti i livelli ma soprattutto con un modo di fare borghese che non deve appartenere naturalmente quest'anno all'Inter e non appartiene soprattutto ad Antonio Conte, mi spiace dirlo ma ho visto delle cose inenarrabili, inenarrabili questa sera proprio nell'atteggiamento, nella mancanza a un certo punto di umiltà, sapevamo che Ibra era l'uomo più pericoloso del Milan perché a sottoporta è un fenomeno fuoriclasse, Ibra che molti derby gli aveva persi in maglia rossonera, siamo riusciti nell'impresa di renderlo il grande eroe della serata, che il Milan sia una buona squadra a questo punto dobbiamo riconoscerlo tutti perché è chiaro che i risultati dello scorso campionato che era stato funestato dal Covid ma anche quelli di questa stagione, va bene Spezia, Crotone, Bologna, ecco adesso però assumono nell'aver vinto il derby un significato importante e ci sta che il Milan siamo solo la quarta giornata, sia primo in classifica. Vi dico nella mia carriera di cronista siamo a 70 derby che ho raccontato, ne ho persi da favorito, ne ho persi da sfavorito, ne ho vinti da sfavorito e ne ho vinti anche da assoluto favorito, ma questo è uno dei peggiori, ripeto, perché l'Inter non ha fatto mai l'Inter nel corso di tutta questa partita. Adesso è facile, prendiamocela pure con Kolarov che ha provocato il rigore, poi c'era stato bravo a fermarlo, ma Ibrahimov ci è stato lesto a ribadire in rete, ma anche voglio dire il piazzamento della difesa, qui chiamo in causa anche De Vrij, che era appena stato premiato prima della partita come miglior difensore della stagione scorsa, sbaglia Kolarov, sbaglia D'Ambrosio, ma sbaglia il piazzamento, soprattutto De Vrij, ed è chiaro che non puoi prendere un gol così e poi dobbiamo aver pensato che siccome era già successo l'anno scorso di finire sotto 2-0 sarebbe stato un gioco da ragazzi di metterla in piedi, ma non è che tutte le partite sono così, infatti poi devo dire su una buona percussione di Perisi c'è un'uscita un po' a farfalle di Donnarumma, Lukaku l'aveva riequilibrata prima della mezz'ora, però c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va se poi l'Inter che ha finito il primo tempo sprecando altre occasioni e nel secondo tempo non è mai stata l'Inter che credevo, ve lo dico sinceramente, tutti dicono ma Lukaku, Lautaro, è chiaro che sono giocatori fantastici, infatti per questo eravamo favoriti, ma ho visto degli eccessi assoluti di generosità anche da parte di Romelu Lukaku e basta con questo libro cuore, prego ti faccio il velo, tira tu, qui c'era da mettere la palla in porta, per lo meno per cercare di riportare la partita sul pareggio nel più breve tempo possibile, ci siamo completamente persi nella nostra convinzione di essere più forti, che saremmo comunque andati a ribaltare la partita come era già accaduto nel febbraio di quest'anno, è peccato che però le partite non sono tutte uguali, paradossalmente quest'anno al di là degli assenti per Covid lo sapevamo che non avremmo avuto tanti ricambi, ma devo dire che poi sono stati usati male, mi spiace dirlo, ma ha sbagliato anche Conte, ho visto Sanchez entrare male, ho visto Eriksen ancora una volta fare qualcosina di più, ma forse era meglio allora che la iniziasse lui, la partita è non Brozovic, un altro che non mi è piaciuto assolutamente, avevamo la fortuna di avere due grandi giocatori di fascia rispetto ai loro, Hakimi infatti secondo me ha stravinto il duello con Teo Hernandez che era il giocatore più pericoloso, perché Hakimi devo dire che comunque è stato il migliore dei nostri, ma dall'altra parte Perisic, a parte la prima progressione in cui è nato il gol su Lukaku, mi spiace dirlo, ma alla fine ha perso il duello con Calabria, ha perso il duello con Calabria, ragazzi così non si va da nessuna parte ed è chiaro che dopo il pareggio di Roma ero stato il primo, forse anche con un pochino di calma dire vabbè ci può stare, ma poi la Lazio ha beccato della Sampdoria, segno quindi che è una squadra battibile, siamo entrati in campo troppo borghesi, convinti che siccome siamo forti potevamo ribaltare la partita, concediamo troppo, è chiaro che adesso il tema della difesa 3 è un tema che propongo anch'io, perché evidentemente non possiamo regolarmente prendere uno o due gol a partita, c'è qualcosa che non funziona, forse nel filtro di centrocampo, eppure ci sono giocatori come Vidal, come Varela, come Brozovic, Brozovic mi pare che continui a non sentire la fiducia dell'allenatore, però non lo capisco, perché allora cosa dovrebbe e cosa ha detto, infatti Eriksen gioca sempre, alla fine Brozovic le partite importanti le comincia lui, non mi è piaciuto per niente, non mi è piaciuto neanche Varela, che è stato in campo come lo conosciamo, un giocatore che si impegna, che fa i cambi di marcia, ma è troppo isterico, è troppo isterico, ad un certo punto non riusciva a fare delle combinazioni, proprio nel momento in cui dovevamo andare a riprendere la partita, ha avuto due momenti di isterismo che non sono una grande squadra. Ragazzi non sono di quelli che si fermano a una partita e traggono sentenze definitive come magari qualcuno a casa, però francamente siamo riusciti con una squadra comunque completa, con una squadra di esperienza a farci battere dal Milan, e non è un Milan, vi assicuro che di Milan ne ho visti di molto più forti, a farci battere dal Milan in casa dopo dieci anni, con una delle formazioni, secondo me, in questi ultimi anni assolutamente più completa. Conte non aveva mai perso un derby, siamo riusciti anche, e Pioli non aveva mai vinto uno, Stefano Pioli ai quali faccio i complimenti, siamo riusciti a far vincere il primo derby nella vita di Stefano Pioli, che all'Inter non aveva mai vinto, al Milan li aveva sempre persi, e devo dire che adesso, insomma, onore e merito agli avversari, io lo dico sempre, quando l'avversario sfavorito, più debole, vince con le doti dell'impegno e dell'umiltà, è giusto celebrarlo. Quindi, grandissima prova di che sì, devo dire grandissima prova di che sì, perché c'era su ogni pallone, poi possiamo recriminare dal punto di vista arbitrale, ma come, forse c'era un rigore per noi, ma certe volte la direzione di Mariani non è stata che sì, forse doveva essere... Ragazzi, siamo troppo forti sulla carta perché io cominci a cercare scuse. Ripeto, l'Inter ha giocato un derby orrendo, orrendo, lo ha preparato malissimo, io capisco tutta la settimana che si è passata, ma abbiamo, dal punto di vista, ripeto, della squadra del centrocampo, dell'attacco, e va bene, magari non avevamo bastoni e francamente non avevamo Skriniar, ma sono giocatori che molto spesso abbiamo criticato noi per prima. Eravamo straordinariamente superiori al Milan, siamo riusciti a fare il loro gioco, a farci imporre la loro umiltà, la loro capacità di stare in partita. Così non va assolutamente, è una sconfitta grave, lo dico subito, è bene segnalarla, questa è una sconfitta assolutamente grave. E come ho detto, non me lo dimentico, ed è normale che adesso gli sfottò dei grossoneri arrivino, perché è giusto che sia così, perché hanno vinto un derby che assolutamente non speravano di vincere, perché sulla carta non avrebbero potuto vincerlo. L'Inter non ha fatto l'Inter, ha permesso al Milan di vincere una partita, voglio dire, per quella che può essere la breve storia di questo campionato, consentite una tra virgolette storica. Colpa dell'Inter, adesso ci sono un sacco di partite a cominciare dalla Champions League, è bene che si diano tutti al più presto una svegliata, a partire da Conte, guardate che io quando Conte sbaglia, non è che dico, questo problema della difesa 3, evidentemente se cominciamo a vedere tutti che siamo troppo fragili, va affrontato una volta per tutte, perché se poi prendi 1-2 gol a partita, mi va bene se ne vai a fare 3-4-5, ma siccome questo non si è verificato stasera, è giusto criticare la squadra, l'allenatore, l'impostazione, fare i complimenti ai cugini e adesso mi raccomando giù il groppone perché bisogna reagire subito. Un saluto, brutta serata, brutto derby, colpa dell'Inter, merito del Milan come sempre accade. Amici del sito www.gianlucarossi.it e del canale YouTube Gianluca Rossi TV, è chiaro che domani lo rivedo e lo analizzo per filo e per segno. Ciao a tutti!